Oggi voterò Nino Di Matteo, siamo un gruppo dell'alternativa e del misto per continuità un po' come tipologia di scelta rispetto a quella che abbiamo fatto nei giorni passati nei confronti di Paolo Maddalena perché rappresenta sempre quei valori della legalità e della Costituzione che noi difendiamo. Questa modalità di voto la trovo comunque compatibile con la situazione in atto anche se io ritengo che forse poteva anche essere prevista la possibilità di accesso a piedi. Non ritengo infatti che ci siano le condizioni almeno in giro per la città. Ora qui in questo ambito sì c'è maggiore concentrazione di persone però in città la strada è completamente sgombra e quasi deserta però va bene così siamo riusciti ad organizzarci.